Chiedo una cosa, secondo te Twitch attualmente è saturo oppure c'è ancora qualcosa da dare? O cosa mancherebbe a questa piattaforma? Ancora qualcosa da dare di nuovo, dici? Secondo me Twitch è un adolescente, ha tutta la vita davanti. Non abbiamo assolutamente ancora visto, siamo come nel primo YouTube, cioè ci sono le prime regolamentazioni, le prime cose, ma sì è vero che i tempi si avvicinano, quindi non ci vorranno altri dieci anni come è stato per YouTube per arrivare alla maggiore età, però se tu prendi una persona, io faccio sempre questo esempio, se tu prendi una persona per strada, scusami, ne prendi dieci e dici, conoscete YouTube? 8 dicono di sì, conoscete Twitch? Uno se va bene ti dici sì, quindi deve ancora arrivare al grande pubblico. Però grazie a YouTube e freebooting Twitch lo stanno conoscendo. Sì, sì, ma la pandemia ha creato quell'uno lì, perché altrimenti era meno di uno la probabilità di beccare uno che conoscesse Twitch. Ora, quindi Twitch è tutto potenziale, è un adolescente, ne ha ancora da dare, da evolvere, da bloccare, da togliere, le aziende grosse si stanno attivando, ma c'è ancora tanto, 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 la competizione con la tv, la questione dei diritti, delle musiche, la musica dal vivo, il teatro, il cinema, c'è tutto, tutto è ancora possibile su Twitch. Dal punto di vista tecnico, secondo me la piattaforma sembra satura, perché è impossibile, ma quasi matematicamente impossibile, per un nuovo streamer che non venga pushato da uno che è già in top. È impossibile emergere, letteralmente impossibile, perché il discovery di Twitch fa schifo al cazzo, ammesso che ce ne sia uno. Cioè tu basta che vai su canali live, scorri, finchia, scorri 20 minuti, ne hai i primi che 8 sopra i 1000 viewers, poi magari una decina, una ventina, sopra i 500, un pochettino, però togli i primi 50 e ne trovi almeno 100 volte con uno o zero viewers. Ma quelli con zero viewers non hanno neanche la decenza di aprirsi una tab dall'altra parte con loro. Vabbè, ma come fa secondo te e emerge su questa piattaforma su Twitch? No, non puoi, perché tecnicamente non c'è un posto per scoprire nuove persone, è impossibile. L'unico modo che hai è... Andare da Dario Moch Fare... Ci sono alcuni che hanno fatto così, ma naturalmente o... No, dico... Comunque, l'idea è quella di... L'idea è... O da Grimbaud, o da Grimbaud, o da Grimbaud, o da Grimbaud, o da Omi ai tempi, o da Omi ai tempi, esatto, esatto. O da me, io anche, o quanto il mio. Sì, però tu solo ragazze... Sì, 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 io sono uno spingitore di ragazze, ma... Che fai a quella faccia? Spingitore... Quindi l'idea qual è? È che l'unica cosa è fare collaborazioni crescenti, pam 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 pam, e se sei bravo, se sei forte, sali, come dice il mio amico e collegato. Certo, perché tutti pensano, eh, ma te busta quello, te busta quello, ma tu puoi essere bustato quanto te pare, però se non c'hai un quel qualcosa da dire, eh, o alla gente non piaci, te può busta pure Gesù Cristo, che tanto alla fine non vai avanti. No, ma certo, chi, diciamo, i detrattori di chi oggi è grosso grazie a qualcun altro non capiscono un cazzo. Cioè, magari la prima live puoi dire, beh, c'ha 10.000 spec perché... Però alla centesima live, se c'ha 10.000 spec è perché c'era lui, o lei, no? E poi comunque c'è un tema, sai, il tema delle visual è sempre molto complicato perché che cosa vuol dire essere di successo? Cioè, se uno fa un contenuto peculiare, non può aspettare, anche se è il miglior a fare quello, non può aspettarsi che lo seguano in 100.000. Cioè, se io faccio lezioni di programmazioni, non avrò mai gli stessi viewers quando faccio un'intervista perché la programmazione interessa meno persone rispetto a quella che interessa un'intervista, c'è poco da fare. E allora io ti propongo una cosa, ti posso far vedere, tu la stai vedendo la live? Ho la chat e basta. Ok, no, perché ti volevo far vedere una grafica che mi ha fatto RISE, che è questa. Cambio un attimo. Vabbè, è la grafica questa, però non te vedi bene. Rubino's Got Talent, io per questo... Oh merda. Eh, la vedi? Mhm. No, bellissima grafica, non per cazzo. Per questo io sto facendo sto programma che inviterò alcuni, se vuoi venire mi fa molto piacere, dove andrò a vedere i canali più piccoli e mi faranno scoprire il loro talento. Ogni giudice deciderà un loro campione. Per esempio l'altra volta è venuto a MediGio che ha deciso tre persone da portare in finale. Quindi tre streamer. Sempre piccoli. Finito tutto questo, io li chiamerò e farò un evento dal vivo. Molto figo, molto figo, molto bello. Questo ad esempio è un modo, un modo possibile, però è assurdo che lo debbano fare gli altri streamer, non lo faccia la piattaforma. Eh, ma così io penso, no? Che dai una possibilità... Aspetta, metto il RIP for RISE. È così, dai la possibilità a magari i streamer più piccoli di far vedere qualcosa in più, capito? Secondo me. Sì, 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 sono d'accordo. E quindi ho voluto fare sto format. Perfetto, non trovo RISE. Molto bello. X-RISE Arts. Ah, vabbè, perché è X? Ecco, perché ha messo la X davanti. Così dai, la possibilità magari a qualcuno di farsi vedere, no? Io ne ho visti un bel po'. C'era uno, per esempio, che suonava la città, e Armandolino e Flauto. Molto bravo. Un altro che era un imitatore. Poi non capisco perché ogni volta che cerco io un talento ci sono sempre molte ragazze. Però è una cosa che... Eh, ma a volte succede, eh. Eh, sì, succede, succede. E quindi... No, ci sta. Io lo feci ai tempi con Barbara Marocco, X Twitch Factor, non neanche più come si chiamava. Però è stato super bello sentire le persone cantare, suonare, persone di qualità. Lì non era l'obiettivo far crescere il canale, però comunque, diciamo, acquisire un certo pubblico. E quindi, secondo me, è un bel format. Questo, ad esempio, è una cosa forte. Anche se sul tema dei format... Beh, non è questo il caso, perché questi sono dei format comunque caserecci, direbbe il nostro amico giocherone. Però... Secondo me è una cosa che non funziona su Twitch. Twitch, adesso la dico forte, o non funziona ancora, o fatti come sono stati fatti, sono i format molto organizzati. Cioè, alla fine le persone vogliono vedere magari una cosa straordinaria, però confezionata del merda. Cioè, vogliono quella familiarità, capito? Quella cosa che stai qui. Ah, quindi tipo, iscio dal vivo, dice. Però, per esempio, in Boscara si andava molto bene. Tutto organizzato, figo. È vero, è vero. Quella è un'occasione, è una... è un'eccezione, perché, comunque, è fatto da persone che di Twitch ne masticano assai. Cioè, quello che non funziona, che ti sto dicendo io, è l'importare dall'esterno e anche le persone, che ne so, anche quello che faceva Ivan delle... un po' alla Paolo Bonolfi. Ah, figo, a me piaceva. Funzionavano, erano belli, ok? Però, vabbè, innanzitutto i Bosca sono un evento unico, quindi è diverso rispetto a un format che tu fai tutte le settimane, no? Cioè, però, comunque, è come se il contenuto su Twitch dovesse avere un certo smalto che non so bene definirti, però, quello è quello che funziona, che non si discosta troppo, secondo me, dal contenuto originale del canale in questione. No, ma, cioè, più che altro le cose televisive portate su Twitch, secondo me, sono totalmente un flop. cioè, sai, quei show grandissimi... Che poi, magari, non nel contenuto di per sé, ma non piacciono alla gente, non so perché. Sì, perché secondo me li rende molto distanti. Io ho visto anche una cosa molto strana, che comunque, quando io faccio determinate live, dove la chat può interagire con me, sono sempre super... sono sempre bellissime live, la gente è stracontenta. Invece, magari, quando non leggo molto la chat oppure mi concentro su una cosa, la gente prende e se ne va. Sì, ovvio, dare spazio alla chat è così, cioè, ma infatti io ho sempre... Però non tutti i canali danno interazione alla chat. Ma perché la tua utenza è abituata così. Sì. Secondo me è una giusta abitudine perché rende il contenuto migliore. Il flop di lore modificato è stato tenere fuori la chat. Punto. Ma a parte che il flop sono 50k viewers. Comunque, al di là di questo, il flop era che il contenuto poteva essere molto più divertente e usufruibile molto meglio. E si poteva anche cercare di includere un po' di più la chat, ma non è sicuramente stata la chat anche perché non è stato un flop. Cioè, dal punto di vista numeri non è stato un flop. Dal punto di vista, secondo me, di occasione mancata è stata una grande occasione mancata. Poteva essere molto bello. Ciao, vediamo.